RULE GEBREAL RULE GEBREAL a Sanremo elegantissima grazie grazie Rula io però sono curiosissimo perché tu sei una bravissima giornalista internazionale tu frequenti addirittura i leader del mondo, il G7 volevo sapere se è più emozionante scendere questa scala oppure essere lì con il G7 a dire il vero Sanremo è molto come posso dire è un posto carico di energie bellissime ma le scale più belle che ho mai sceso sono state quelle che quando avevo 20 anni le scale dell'aereo che mi ha portato in Italia queste sono le scale più commoventi tu hai presentato il presidente degli Stati Uniti Barack Obama sei tra le consigliere del presidente francese Macron che consiglio mi dai questa sera? stasera facciamo parlare alla musica che è una lingua universale che tutti comprendiamo anche quando non capiamo le parole il significato delle parole stasera parliamo al cuore degli italiani ma stasera soprattutto tutti noi cerchiamo di fare un passo in avanti e avrai un altro consiglio semplice cerchiamo di non fare gas magari e quello non te lo posso pronuncare ma mi impegno proviamo